Ammontano a 500.000 euro i fondi stanziati dalla Regione Abruzzo per finanziare due nuovi bandi per la rendicontazione 2023 e progettualità 2024 per sostenere e promuovere le attività in ambito teatrale, svolte da soggetti che non siano beneficiari del fondo unico dello spettacolo. Il primo avviso, che è stato detto stamani nel corso di una conferenza stampa, finanzia le attività realizzate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre di quest'anno. Il secondo avviso, quelle realizzate nel periodo compreso tra il 1 gennaio del prossimo anno e il 31 dicembre del 2024. Due bandi a sostegno degli spettacoli dal vivo per i soggetti extrafussi, quindi i soggetti che non soffriscono di contributi ministeriali del fondo unico dello spettacolo del Ministero e quindi sicuramente che aiuta quei pressionisti che però oggi sono fuori da radar dei contributi del Ministero a continuare a fare cultura e spettacolo in Abruzzo. Riteniamo che oggi sia una bellissima giornata perché iniziative come questa che nascono dal basso e danno una mano a quei professionisti della cultura che ogni giorno portano il nome dell'Abruzzo in giro prima di tutto e poi ci regalano emozioni con gli spettacoli dal vivo. Ciascuno dei due avvisi, ha ricordato ancora l'assessore, ha una dotazione finanziaria di 250 mila euro e l'ammontare complessivo del finanziamento non può eccedere il 50% della spesa prevista dai soggetti per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a 30 mila euro, erogato successivamente alla verifica della rendicontazione dell'attività finanziaria. Ma il termine ultimo per le domande sia per la rendicontazione dell'attività svolta nel 2023 e sia per le progetti tutel 2024 è entro mezzanotte dell'11 dicembre. I contributi, è stato detto infine, sono finalizzati all'acquisizione di attrezzature destinate alle attività teatrali e all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico. Beneficiari degli avvisi sono i soggetti legalmente costituiti in forma individuale o in forma di organismi associativi o di impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, che dimostrino una documentata continuità almeno triennale dell'attività svolta. ...le esigenze di chi vive sul territorio. È una legge che...